Saluta, ciao, salutate, ciao, saluta, ciao, siamo in discoteca e ci stiamo divertendo come matti, con parmia, che stiamo ballando completamente a casa, è impazzita, allora io vi saluto, allora Michela e Gessi vi salutano così torniamo a ballare, e la bella che contiene in faccina, e vabbè, allora la Letizia saluta, perfetto, nel frattempo che adesso continuiamo a ballare, io adesso mi sono anche messo lo smalto rosso che non c'entra assolutamente nulla con tutto ciò, ma ne avevo voglia, allora noi torniamo a ballare, noi vi mandiamo un bacione, e ci vediamo domani con un nuovo vlog, ciao, salutate, saluta, saluta.